Riguarda interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza degli istituti scolastici dell'intera provincia di Salerno, il piano illustrato dal presidente Michele Strianese. Quattro progetti per un importo totale di 18 milioni di euro sono relativi alla normativa antisismica, interesseranno l'istituto tecnico Van Vitelli di Cava dei Tirreni per 5 milioni di euro. Stessa cifra per il Galilei di Palo di Salerno, Litis Pacinotti di Scafati, i restanti tre al liceo Cicerone di Sala Consilina. La provincia sta lavorando sull'edilizia scolastica in maniera incessante, la conferenza stampa di oggi vuole dimostrare l'impegno di questa amministrazione, di questa presidenza sulla problematica annosa della sicurezza statica ma anche impiantistica, antigenio di tanti edifici scolastici che la provincia gestisce su tutto il territorio, sono circa 138. Stiamo lavorando per rendere davvero reali gli interventi di messa in sicurezza su circa 4 milioni di euro che sono stati finanziati dalla Regione Campania già alcuni mesi fa, sono stati decretati i progetti preliminari, sono stati orientati i fondi e ora finalmente approviamo i vari progetti esecutivi e appaltiamo le prime opere. Quindi circa 3 milioni e 600 mila euro finanziati dalla Regione Campania si spenderanno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, sfruttando anche la pausa estiva delle attività didattiche. Ovviamente l'elenco è lungo delle strutture che andremo a toccare a partire dal sud della provincia, da Sapri fino all'Agroncino Sarnese, passando per Salerno, l'area dei Vicentini, la Piana del Sene. Quindi lavoriamo un po' su tutto quello che è prioritario. Poi sono in corso gare per milioni e milioni di euro di finanziamenti grandi come quello di 5 milioni per il Van Vitelli di Cava dei Tirreni e poi la Regione Campania ci ha finanziato un altro 1.540.000 euro per interventi di messa in sicurezza e adeguamento anti-ingendio. Sono piccoli interventi da 70 mila euro cada uno su 23 edifici scolastici della provincia e su questi stiamo facendo i progetti esecutivi. Sono piccoli interventi che serviranno per migliorare la sicurezza anti-ingendio, quindi realizzare scale di emergenza, forniture di estintori e quant'altro. Grazie per la visione! Grazie a tutti!